Il Mediterraneo si sta trasformando in un'immensa macabra fossa comune. Noi dobbiamo agire. Abbiamo chiesto come socialisti democratici la convocazione immediata del Consiglio europeo e chiediamo al Presidente Juncker di anticipare le proposte della Commissione. Non si può aspettare un mese e mezzo di fronte al massacro. Oggi ne parlerò con lo stesso Juncker, con Schultz, con Weber, con Verostat. Cercherò di parlare con il Presidente Tusk e con tutte le altre personalità politiche. Bisogna trasformare Triton in Mare Nostrum europeo, bisogna realizzare centri di raccolta delle richieste di asilo nei paesi da sponda sud del Mediterraneo, bisogna lottare senza remissione di energia contro i trafficanti della morte e bisogna dare una soluzione politica alla Libia e all'Africa. L'Africa deve tornare ad essere una nostra grande priorità.